Amici miei buongiornissimo! Dopo un bel po' di giorni che ha piovuto tipo due settimane e 250 e passa millimetri di pioggia sono qui ahimè a controllare un attimo i teli pacciamanti, si sono ancora vivi perché vorrei trapiantare gli ortaggi Ora non si può più togliere il telo pacciamante, il terreno si è un po' compattato però ha protetto da tutto il compattamento dell'acqua che ha fatto il passaggio è duro come il muro però qui sotto possiamo trapiantare tranquillamente si farà più fatica con il trapianto però nessun problema Oggi però parliamo sì di pacciamatura ma di macchine come ho potuto leggere dal titolo per stendere la pacciamatura e dopo con questa copiata qua ragazzi, cioè BCS 740 con il cingolo pacciamatura moroni che macchina che macchina aggressiva è, quanto aggressivo è, guarda che spettacolo e stendere la pacciamatura con questo mezzo qua sono 60 metri di lunghezza per quante 10 prode è veramente un divertimento Parliamo un attimo della macchina, della Moroni, della pacciamatrice e non tanto del motocoltivatore Beh, pacciamatrice studiata, realizzata da Moroni, un'azienda italiana che costruisce pacciamatrici piccolissime come quella per il motocoltivatore ha pacciamatrici grandissime La pacciamatrice in questo caso qua è la PAC M100 quindi permette di installare un telo largo massimo 100 cm, un metro perfetto per le coltivazioni ed è anche il telo che si va a utilizzare più comunemente Dopodiché abbiamo un telaio fatto come si deve fatto veramente come si deve Scatolati, belli, belli, grossi si usano bulloni con una bella consistenza anche i tubi, anche l'attacco fatto veramente molto bene sono super super contento qua di averla presa la prima cosa ti permette di risparmiare un sacco di tempo ti permette di sfruttare la pacciamatura che è una risorsa grandissima se hai un'agricoltura pulita, un'agricoltura naturale quindi non puoi utilizzare i pesticidi e soprattutto risparmi tempo risparmi, risparmi tempo una cosa che dico sempre, che mi piace sempre ribadire se tu hai un'azienda devi fare un attimo degli investimenti perché se io per stendere questo telo qua che è lungo 60 metri ci metto mezz'ora, invece con la macchina ci metto un minuto perché alla fine è quello il tempo che ci metti in quanto è che lo ammortizzi cioè ammortizzi la macchina in veramente pochissimo pochissimo tempo e soprattutto il costo non è neanche così tanto eccessivo in una stagione, anzi con questo piccolo lotto qua te ne compri anche tre tranquillamente e penso che sia veramente l'arma ideale per tutte le piccole attività che stanno crescendo per chi ha un orto hobbistico un po' più grande non vuole fare fatica e soprattutto una macchina del genere la tiri con motocoltivatori che hanno dai 9 cavalli in su questo qua ha 12 cavalli ok modificato con il cingolo quindi tira come per un 16 e dopo di che con una superficie d'appoggio del genere tira anche di più però già con una ruota molto molto piccola come la 5.10 che è quella originale che monta il BCS 740 la tira perfettamente fresatura del terreno bella una bella fresatura in modo che riusciamo a coprire anche il terreno molto molto bene regolazione dei vomeri perfetta se noi andiamo alla giusta inclinazione questa qua è una cosa che si va a fare nei primi momenti quindi prima andiamo a regolare i vomeri anteriori dopodiché le ruote e dopodiché i vomeri posteriori che sono quelli che chiudono il solco il vomere anteriore deve essere in linea con la ruota in modo che scava il solco la ruota cammina all'interno del solco tiene premuto il telo lo tiene bello in tiro e dopodiché l'ultimo vomere va a mettere il terreno che ha aperto il primo in questo modo qua quando abbiamo regolato per bene la macchina ci perdiamo all'incirca un quarto d'ora la possiamo utilizzare tranquillamente ore e ore e ore una cosa che possiamo andare a modificare in base a quanto alta vogliamo la spalla della pacciamatura è il solco quindi più fondo sarà il solco più la spalla sarà grande io in questo caso ho fatto una spalla abbastanza piccolina perché non volevo delle super mega prode ma volevo solamente pacciamare il terreno se volessi fare una spalla più alta forse cosa migliore quindi un po' di baulatura maggiore andiamo ad abbassare di più il vomere anteriore e viene fuori un lavoro veramente veramente fantastico grazie a tutti un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo di questa pacciamatrice fin da subito è che con una chiave la chiave del 17 vai a regolare tutte le viti tranne due che hai bisogno di una chiave da 13 e una chiave da 10 una chiave da 10 che ti serve per allentare qua il bullone che permette di tenere fermo il telo e una chiave da 13 che ti permette di mollare queste ali qua che tengono fermo il telo in sede in questo caso qua è finito finito l'ultimo rotolo facci un pensierino se hai un motocoltivatore se hai un po' di terreno e soprattutto se sfrutti tanta pacciamatura un piccolo consiglio che ti do quando vai a stendere il telo le ruote non tenerle perfettamente dritte ma inclinarle leggermente così leggermente leggermente in modo che tirano il telo in esterna e viene tirato in una maniera fantastica vedi viene tirato in una maniera perfetta e così soprattutto la ruota si ancora meglio perché gomma con gomma si ancora meglio e lo riesce a tirare di più e soprattutto non scappa al telo una cosa molto nota sulle pacciamatrici è che magari quando si comincia ad andare molto molto forti si trova un ostacolo una buca si alza la pacciamatrice potrebbe essere che il telo si sfili dalla ruota quindi il vomere non riesce più a buttare terra viene fuori un macello inclinandole leggermente teniamo il telo tirato viene fuori un lavoro fantastico veramente veramente fantastico ora però c'è anche da dire una cosa cioè ok abbiamo provato la pacciamatrice della Moroni ma la Moroni sta costruendo una macchina ancora più formidabile cioè la trapiantatrice per motocoltivatore e quindi io direi di fare una cosa qui sotto nei commenti bombardate di commenti noi vogliamo vedere la pacciamatrice collegata al bcs più aggressivo qua d'Italia anzi d'Europa d'America di tutti cioè voi avete mai visto un bcs del genere quindi ti lascio qui sotto in descrizione due link il link per i cingoli per i ricambi del bcs e soprattutto il link della pacciamatrice fondamentale se vuoi collegarla a un mezzo del genere ma la puoi collegare anche a mezzi più più tranquilli non aggressivi come questo il risultato è pressoché formidabile questa qua è una coltivazione di pomodoro San Marzano determinato quindi rimane nano e guarda che bello sì questo qua è il nylon che è uscito perché sono passato con la fresetta a togliere un po' di erba e ne ho macinato un pochino realizzando la spalla più alta il telo è spalmato di più su una superficie minore e quindi passando con la fresa non facciamo tanti danni invece in questo caso il telo è spalmato su una superficie maggiore soprattutto più in superficie e quindi con una fresetta lo andiamo a colpire però guarda che risultato guarda che spettacolo ora qui andranno tre piantate zucchine più o meno due prode e dopo di che tutto il resto saranno meloni e angurie qui verrà fuori tutto un letto verde guarda veramente che spettacolo e la pacciamatura veramente stesa in un modo perfetto guarda togliamo anche un po' di erba qua guarda che spettacolo sono super super contento e qua sono quattro prode stese in quanto 10-15 minuti perdi più tempo a preparare il terreno che a stendere il telo solitamente era il contrario adesso con la pacciamatrice si è invertita la cosa beh che dire amici miei dal BCS 740 dalla super mega pacciamatrice della Moroni è tutto noi ci vediamo ad un nuovissimo video quando magari inizio a preparare qualche nuovo lotto qualche nuova stesura di pacciamatura e dopo basta una cosa che mi sono dimenticata è che tramite un kit sempre realizzato dalla Moroni possiamo prendere questa pacciamatrice qua e trasformarla per trattore si attacca al posto dell'attacco del BCS e ci colleghiamo l'attacco a tre punti e la possiamo utilizzare sia per motocoltivatore che per trattore fantastico dobbiamo utilizzarla in serra dove non ci passiamo con il trattore utilizziamo il motocoltivatore e il suo attacchino la utilizziamo in esterna quando possiamo utilizzarla col trattore bene togliamo l'attacco del BCS o di qualsiasi motocoltivatore e mettiamo il trattore cosa veramente veramente fantastica noi ci vediamo ad un nuovissimo video loro due ti salutano e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti